Musica Quest'oggi siamo a Pedavena, siamo venuti a trovare il sindaco Nicola Castellaz qui appunto in municipio. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Partirei subito per questa intervista da un tema scottante per le famiglie, per le imprese, ma anche per le pubbliche amministrazioni che è quello del caro energia. State avvertendo delle difficoltà? Come vi state muovendo? Sì, innanzitutto volevo ringraziare Telebelluno per l'opportunità che ci dà ogni tanto di poter dialogare con i nostri cittadini. È indubbiamente un servizio importante e che va perseverato, soprattutto perché il dialogo e la partecipazione e la condivisione con i cittadini è indubbiamente un aspetto importante che come amministrazione, tra l'altro già lo facciamo con varie pubblicazioni, giornalini, piuttosto che incontri frazionali, ma che comunque Telebelluno, arrivando direttamente alla casa dei cittadini, fa in maniera egregia. Indubbiamente il tema che tu hai posto è oggi il tema principale, direi, dell'intero paese. È un tema legato alle famiglie, è un tema legato alle attività commerciali, artigianali, industriali. Insomma, è un tema legato anche all'amministrazione comunale, perché è evidente che anche noi ci siamo posti fin da subito ad un bivio, quello di aumentare la tassazione dei cittadini per poter far fronte agli aumenti legati alle bollette, oppure tentare di attivare quello che è, a mio modo di vedere, la migliore energia, cioè quella del risparmio. In realtà in questi anni noi abbiamo attivato diverse forme di efficientamento energetico, di risparmio. Uno su tutti è indubbiamente quello legato alla illuminazione pubblica, dove quasi la metà dei nostri lampioni sono lampioni a LED. Anche quest'anno abbiamo attivato un nuovo progetto da 85 mila euro. È un percorso lungo, che abbiamo attivato da qualche anno e che prevede ovviamente di risparmi importanti. Siamo stati tra i primi comuni, nel mese di aprile e maggio, ad aver chiuso l'illuminazione di notte, da mezzanotte alle 5. Certo, una scelta impopolare, ma una scelta che ci ha permesso di arrivare a fine anno e di far fronte probabilmente anche al prossimo anno. Abbiamo attivato anche delle misure legate alla parte termica, con cambio di caldaie, caldaie dell'ultima generazione, con grande rendimento, a condensazione, piuttosto che una caldaia nuova, che ha tre anni nel nostro istituto comprensivo, che tra l'altro va a scaldare sia la scuola materna, sia la scuola primaria, secondaria di primo grado, e anche la palestra, attraverso anche un processo di teleriscaldamento, che grazie a un combustibile nuovo e alla caldaia che poteva permetterci, cioè il cippato, siamo riusciti a cambiare combustibile dal pellet, che come sappiamo ha avuto un aumento più del doppio, al cippato che invece ha avuto un aumento molto contenuto. E quindi anche da quel punto di vista siamo riusciti in qualche modo a contenere indubbiamente le spese. Abbiamo anche pensato poi ai cittadini, perché è evidente che in questa fase, soprattutto le famiglie più fragili, hanno difficoltà di arrivare a fine mese, hanno difficoltà a pagare le bollette, con il rischio che poi le vengano anche chiuse e rimangano al freddo, piuttosto che senza corrente elettrica. È per questo che abbiamo attivato, attraverso il nostro bilancio e un finanziamento che ci è arrivato dallo Stato, a un bonus, chiamato bonus bollette, per le famiglie ovviamente in difficoltà, che ne faranno richiesta e che hanno la possibilità di attivare delle forme di finanziamento, di contributo una tantum, a seconda del nucleo familiare, cioè della dimensione delle famiglie. Questo ovviamente non è la soluzione del problema, ci sono poi tutte le nostre aziende, ci sono tutte le nostre attività. Ecco, credo che qui poi la risposta sia fuori dal nostro Comune e l'appello che voglio fare appunto è quello che lo Stato, la Regione si attivino affinché riusciamo a mantenere l'esistente, quantomeno una preoccupazione che abbiamo come amministrazione è indubbiamente legata alla nostra piscina comunale, che è una delle attività più energivore. È evidente che da qui a breve, se non vengono prese delle posizioni importanti per riuscire a mantenere aperta la nostra piscina, dovremo prendere anche delle scelte che ovviamente poi pagheranno le conseguenze tutte quelle attività sportive, ma anche sociali che trovano sede proprio in quella struttura, ad esempio la riabilitazione, è un fenomeno che avviene nelle piscine del nostro territorio. Tra l'altro su questo tema stiamo attivando anche con gli altri sindaci della provincia di Belluno una delibera di indirizzo affinché appunto gli organi competenti possano prendere e prendano delle decisioni importanti affinché queste strutture non vengano chiuse. Volevo dire un ultimo aspetto, un'ultima azione che abbiamo preso nel nostro piccolo, sempre per aiutare soprattutto le persone più fragili, gli anziani eccetera. Abbiamo attivato un servizio di trasporto pubblico locale che era già attivato prima e fatto in maniera molto egregia da una ditta esterna, l'abbiamo internalizzato quindi risparmiando e nel contempo l'abbiamo anche allargato, prima veniva solo nelle frazioni di Norchen, Facen, Teven e Travagola, adesso l'abbiamo allargato anche in altre frazioni come Murles, Segabassa eccetera. Perché leggo questo fenomeno al fenomeno del caro Bolletta? È evidente che per spostarsi costa e attivare un servizio di questo tipo, tra l'altro che a breve lo daremo anche gratuito grazie a una convenzione che abbiamo fatto con Bira Castello, con i 125 anni alla quale noi abbiamo concesso l'utilizzo dei marchi e in contropartita per 10 anni ci dà delle risorse da utilizzare appunto in ambito sociale. Noi pensiamo di annullare il biglietto in modo tale che anche le persone anziane eccetera possano venire il martedì e il venerdì in centro al paese o al mercato oppure a farsi la spesa e poi ritornare gratuitamente nelle nostre abitazioni. Sono delle piccole azioni che abbiamo fatto ma che secondo me sono importanti soprattutto per le fasce più deboli. Ma chi è che si occupa di questo trasporto? Chi è che guida? Guida è un nostro, i nostri operai comunali, anzi colgo l'occasione per ringraziarli perché hanno accolto questa iniziativa che è partita poi dalla Giunta, dal Consiglio in maniera positiva. Abbiamo due operai che hanno la patente e la possibilità di poterlo fare che si alternano nell'utilizzo di questo mezzo. Ecco, anche le opere pubbliche hanno subito un po' in tutti i comuni, un po' in tutte le pubbliche amministrazioni rallentamenti, difficoltà di approvvigionamento, carenza di materiali, aumento del prezzo dei materiali. Immagino che anche Pedavena abbia subito questo tipo di fenomeno. Certo, il 2022 indubbiamente ce lo ricorderemo. Ci ricorderemo la pandemia, ma probabilmente questi aumenti alle volte anche speculativi, mi viene da dire, trovano poi fenomeni legati al mondo dell'industria, al mondo delle materie prime, al mondo anche alimentare banalmente. Ecco che le opere pubbliche indubbiamente quest'anno hanno avuto per noi un'attenzione particolare perché il rischio era quello di partire con l'opera e non poterla terminare. Abbiamo così, siamo stati molto attenti, soprattutto nel quadro economico, per poter attivare dei processi e dei progetti che fossero poi cantierabili. Ecco, devo dire la verità che anche quest'anno, come il 2021, è un anno importante perché superiamo un milione di opere realizzate, che è un record, diciamo, per Pedavena. Significa che comunque siamo riusciti a procedere con un passo importante e soprattutto a realizzare e a raggiungere anche gli obiettivi. Non vorrei citare alcuni che sono più significativi o meglio, sono attuali, nel senso che si stanno chiudendo proprio in questi mesi. Il primo è alle scuole medie dove stiamo procedendo per l'adeguamento antisismico che finirà al fine di dicembre e finalmente i nostri ragazzi potranno avere una scuola adeguata dal punto di vista sismico. La stessa ditta ha vinto l'appalto poi per la sistemazione e la coibentazione completa del tetto della scuola media. È un processo, è un appalto da un milione, quindi è un appalto molto importante. Tra l'altro volevo e colgo l'occasione anche di ringraziare l'istituto comprensivo di Pedavena, dal dirigente ai docenti, al personale ATA, perché la pazienza di gestire un cantiere durante le lezioni è indubbiamente importante e devo dire che tutta la struttura della scuola ci è venuta incontro, ovviamente anche i genitori ci possono essere stati anche delle piccole problematicità, ma è evidente che quando si lavora dei problemi ci sono. Abbiamo fatto questa scelta di mantenere gli alunni per non creare disagio alle famiglie e indubbiamente questo ha dall'altra parte lo scotto di far sì che ci possono essere dei problemi legati al fatto che c'è un'azienda che li sta lavorando. Abbiamo lavorato tantissimo e stiamo lavorando oggi sulla parte invece della sicurezza stradale, perché se è vero che negli ultimi anni abbiamo attivato anche un sistema di controllo della velocità, dettato dal fatto che molte famiglie, molti cittadini si lamentavano che nelle vie pubbliche le macchine correvano oltre i limiti di velocità, abbiamo attivato un servizio tra l'altro non fisso ma mobile di un controllo in tutte le vie, semplicemente per dare un segnale che vi è un controllo nel nostro territorio. Nel contempo però abbiamo lavorato anche sulla sicurezza, a di là della realizzazione di tutta la segnaletica orizzontale, abbiamo appaltato e sta vedendo la luce un progetto di riqualificazione di tutta la segnaletica verticale del Comune e soprattutto il posizionamento di un semaforo pedonale nella zona di via Trento, grazie al quale si metterà in sicurezza un passaggio pedonale che è prevalentemente utilizzato ancora dai nostri studenti quando escono e a piedi vanno a casa, quel passaggio a nostro avviso era pericoloso e con il posizionamento di questo semaforo lo renderemo sicuramente più sicuro. Ultimo appalto che è appena partito sono le nuove asfaltature, ma non voglio parlare tanto degli asfalti quanto alla loro sicurezza, quanto del fatto che in via Luciani queste asfaltature prevedono anche dei dossi, dei dissuasori che sono fisici, quindi verranno fatti fisicamente appunto con l'asfalto, anche qui su una richiesta che è arrivata da una raccolta firme da parte dei cittadini e che siamo riusciti e riusciremo a esaudire nelle prossime settimane, ovviamente tempo permettendo appunto con la realizzazione di questi dissuasori. Queste sono appunto tutte opere pubbliche, diciamo a livello tecnico poi vanno nella voce degli investimenti e poi insomma nei bilanci c'è anche la spesa corrente che alle volte, anzi quest'anno più che mai è lì che si crea qualche preoccupazione e questo è il periodo in cui di bilancio si inizia a parlare abbastanza concretamente. Certo, è proprio il periodo in cui si parla di bilancio perché noi abbiamo l'obiettivo, poi ovviamente dipenderà anche dai tempi e dalle situazioni di come si evolgono le situazioni da qui in avanti, di approvare il bilancio entro la fine dell'anno in modo tale da essere pronti già dal 1 gennaio 2023 a andare avanti con la macchina organizzativa. È evidente che la parte delle spese correnti sono sempre quelle più impegnative sulle quali dobbiamo prestare molta attenzione, prima ho detto alcuni artifici che abbiamo fatto anche per risparmiare e magari anche migliorare i nostri servizi, continueremo su quella strada. Ci sono un paio di servizi che il prossimo anno in qualche modo cambieranno, il primo è l'appalto nella mensa scolastica che partirà probabilmente dal 1 gennaio 2023, anche qui abbiamo fatto un capitolato secondo me di qualità sia in termini di trasformazione del prodotto, ricordo che la mensa di pedavena ha la fortuna, diciamo così, ma forse anche la bravura di avere la cucina proprio lì dove i bambini possono poi mangiare, quindi la trasformazione viene fatta in loco, quindi abbiamo puntato sia sulla qualità della trasformazione ma anche sulla qualità della materia prima, puntando ovviamente sulla parte biologica ed eventualmente sull'altra parte, sulla filiera corta o sul chilometro zero, in modo tale anche da dare una risposta al territorio, da un punto di vista agricola, per poter utilizzare i prodotti del territorio stesso. Un altro servizio che nel 2023 cambierà, ma avremo modo poi di parlarne anche nei vari incontri pubblici che verranno realizzati appositamente, è quello dei rifiuti. Sui rifiuti c'è un cambiamento provinciale, lo sappiamo, insomma a breve il consiglio di Bacino darà in house il servizio a una società pubblica, però prima di arrivare qui probabilmente ci vorrà secondo me ancora un annetto, noi siamo in house con Valpe Ambiente e partiremo da 2023, ovviamente non dal primo gennaio ma probabilmente da marzo o d'aprile, questo lo stiamo condividendo proprio in questi giorni, al servizio porta a porta spinto, è un servizio che ci permetterà di togliere le attuali calotte, che sono cassonetti, che sono dislocati un po' nelle aree ecologiche del territorio di Pedavena e dall'altra parte a garantire, a mio modo di vedere, un servizio puntuale e migliore, soprattutto anche in questo caso le fasce deboli, perché arriviamo direttamente sotto casa a raccogliere i rifiuti. Ma il 2023 è anche l'anno anche qui di nuovi lavori pubblici, io ne volevo citare due su tutti, altrimenti magari dedico troppo tempo, insomma, eccetera. Il primo che secondo me è un po' un fiore all'occhiello di questa amministrazione, mi auguro di riuscire a portarlo a termine prima della fine del mio mandato, dovremo andare in appalto entro marzo del prossimo anno, quindi mi auguro che magari veda la luce non nel prossimo anno scolastico ma in quello successivo. Abbiamo preso un finanziamento dal PNRR, devo dire che Pedavena ha ricevuto parecchi per ora finanziamenti su questa forma per la realizzazione dell'asilo nido, è un'esigenza che il territorio ci chiede da tempo, abbiamo pensato di realizzarlo non ex novo ma utilizzando già uno stabile presente sempre lì dove abbiamo le scuole, quindi in realtà andremo a costruire una scuola 014, quindi dagli 0 anni fino alla terza media e l'asilo nido verrà realizzato laddove c'è la ex casa del custode che oggi non ha più senso di esistere. È un progetto da circa 300 mila euro, parte, dobbiamo metterli anche noi perché il PNRR ha avuto, a mio modo di vedere, un piccolo problema legato al costo a metro quadro, nel senso che quando è uscito il bando, ahimè, ci sono stati gli aumenti legati agli aspetti delle materie prime, arriviamo sempre là, quindi dovremo cofinanziare evidentemente l'opera e stiamo cercando appunto di trovare anche delle risorse per poterlo fare. Andremo in appalto prima di marzo, probabilmente non riusciremo a dare in gestione perché poi dovremo trovare anche la società, la cooperativa che andrà a gestirlo prima dell'anno scolastico 24-25. Ecco, l'altro aspetto che volevo sottolineare è la realizzazione della ciclabile che parte dall'attuale ponte della sega bassa, quella che arriva a Feltre per intenderci, completarla perché ci manca l'ultima parte, abbiamo 500 mila euro legati dai fondi di confine, con questi fondi abbiamo già una progettualità definitiva, a breve arriverà quella esecutiva, abbiamo già interessato anche le proprietà private dove passeremo per realizzare questa ciclabile che sarà sulla sinistra orografica del Colmeda, quindi in continuità con quella esistente e arriverà sostanzialmente in birreria dove già c'è quella che arriva al centro del paese. Quindi mi viene da dire un bambino, un ragazzo che magari vuole frequentare le scuole di Feltre, sostanzialmente andrà in sicurezza anche con la propria bicicletta perché arriverà sostanzialmente nei pressi, ad esempio dell'area Bosca Riz, dove ci sono a tutt'oggi la maggior parte degli istituti di secondo grado del Comune di Feltre. Grazie mille per averci accolti. Grazie a voi. E quindi ci vediamo alla prossima tappa.